Nome. Peter Dupas. Numero vittime. Tre accertati. Modus operandi. Stupro, accoltellamento, mutilazioni. Peter Dupas è nato il 6 luglio 1953 a Sydney, in Australia da quella che si può definire una famiglia normale. Ultimo di tre figli, era viziato come se fosse figlio unico. Il primo campanello d'allarme sull'instabilità mentale del ragazzo lo si ebbe il 3 ottobre 1968, quando, a soli 15 anni, andò da una vicina a chiedere in prestito un coltello per tagliare la verdura. In realtà non lo usò mai per quello scopo. Aggredì una donna, pugnalandola al collo e alla mano. Fortunatamente sopravvisse e fece arrestare il giovane Dupas, il quale fu messo in libertà vigilata per 18 mesi, durante i quali veniva ricoverato qualche giorno presso un ospedale psichiatrico per valutazioni. Il suo rilascio avvenne nell'ottobre 1969. Quello stesso giorno, entrò di nascosto in una camera mortuaria ed iniziò a mutilare i corpi senza vita di due donne anziane. Passano quattro anni di continue stranezze prima di finire di nuovo ricoverato in un ospedale psichiatrico. È il 25 luglio 1974 quando irruppe in casa di una donna sposata, armato di coltello e una corda. Minacciandola di uccidere il suo figlio, la donna si dovette legare. Dopodiché avvenne lo stupro. L'atto carnale fu così violento che la donna fu quasi uccisa. Nel 1979, circa due mesi dopo il suo rilascio dalla prigione, Dupas molestò nuovamente quattro donne, nell'arco di dieci giorni. Il 28 febbraio 1980, Dupas ricevette una pena detentiva minima di cinque anni per tre accuse di aggressione con intento di stupro, ferimento doloso, aggressione con intento di rapina e aggressione indecente. Dupas fu nuovamente rilasciato dal carcere nel febbraio 1985. Il suo rilascio destò preoccupazione da parte degli inquirenti e degli psichiatri, che lo definivano un soggetto profondamente immaturo, pericoloso e turbato. Infatti un mese dopo, violentò una donna di 21 anni su una spiaggia a Blergourie. Dopo essere sceso dalla sua macchina, Dupas ha seguito la donna e l'ha attaccata, tenendola a terra prima di violentarla. Per questo reato, fu condannato a 12 mesi il 28 giugno 1985. Alla polizia, riguardo gli stupri, dichiarò che era più forte, è un impulso incontrollabile. Fu rilasciato nel 1992. Da qui al 1999 fu un continuo dentro e fuori da ospedali e carceri per reati sessuali. Quello che preoccupava gli psichiatri era il progresso nei suoi crimini sessuali. Erano sempre più premeditati e violenti. Ma nonostante ciò, il maniaco veniva sempre rilasciato. Dal 1999 quegli impulsi che lui chiamava incontrollabili, diventarono vera e propria pazzia, una follia omicida che lascerà col fiato sospeso l'area di Melbourne. 19 aprile 1999. Nicole Patterson, 28 anni, era una psicoterapeuta e consulente giovanile. Il suo cadavere fu scoperto da un amico nella stanza di fronte della sua residenza. La scena che gli si presentò agli occhi, difficilmente la dimenticherà. La ragazza era stata uccisa da 27 coltellate al petto e alla schiena. Il corpo era nudo dalla vita in giù, la biancheria intima era alle sue caviglie. Era legata con un nastro adesivo e le era stato rimosso il seno con un coltello. Le indagini della polizia, in base agli indizi a disposizione, portarono a Dupà. Scattò l'arresto e fu processato il 22 agosto 2000. La polizia però ricordò casi simili avvenuti anni prima. Le indagini rimasero aperte e si iniziò ad indagare. Era il 4 ottobre 1997. Margaret Josephine Maher, 40 anni, era una prostituta che lavorava nella zona di Melbourne. Il suo corpo è stato scoperto sotto una scatola di cartone. Margaret aveva subito una coltellata al polso sinistro, aveva lividi al collo, presentava un trauma contusivo, il seno sinistro le era stato tagliato e infilato di forza nella sua bocca. Fu grazie al DNA trovato sul luogo dell'omicidio che è stato possibile compararlo con quello del sospettato Dupà. Il risultato combaciava. Fu così che nel 2004 si aprì un nuovo processo per il predatore sessuale, nel quale fu riconosciuto colpevole anche di questo omicidio. Ma non era finita qui, le indagini continuavano senza sosta. Era il 1 novembre 1997. Mersina Alvagis, una ragazza di 25 anni, si trovava in un cimitero a far visita alla tomba di sua nonna. Stava sistemando i fiori nuovi che aveva appena comprato nel vaso della tomba quando fu assalita da uno sconosciuto. L'allarme di scomparsa fu lanciato dal suo fidanzato che non la vide più tornare a casa. Il corpo di Alvagis è stato scoperto la notte del 5 novembre 1997 dal suo fidanzato, in un terreno del cimitero, vicino alla tomba della sua nonna. L'aggressione è stata brutale. È stata pugnalata 87 volte, alle ginocchia, al collo, ma soprattutto nell'area del seno. Una furia devastante. I vestiti le erano stati tirati su di forza sopra il seno. La povera ragazza riposa proprio nella tomba accanto a quella della nonna. Quell'omicidio, lasciato irrisolto, poteva essere finalmente spostato negli archivi degli omicidi risolti, dopo che il pazzo confessò con assoluta freddezza. Ora finalmente, i cari potevano piangere le vittime in pace. Almeno era stata fatta giustizia. È il 2007 quando fu chiamato nuovamente a processo, il quale durò ben 22 giorni. È il 9 luglio 2007 quando fu processato anche per questo omicidio. I parenti delle vittime che seguirono tutti i processi lo definirono come il predatore più malvagio, uno psicopatico, una persona astuta e repulsiva. Gli psicologi che lo seguivano dissero che Dupa ha attaccato le donne per soddisfare fantasie di conquista e controllo. Per Dupa, l'attacco vero e proprio non è stato all'altezza della fantasia che ha preceduto l'assalto, ed è stato visto a volte come deludente. Così era in continua ricerca di nuove vittime per provare sempre più piacere, fino a trovare quella che secondo lui sarebbe stata la vittima perfetta. Tuttora il serial killer si trova in un carcere di massima sicurezza, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere responsabili di ulteriori tre omicidi.